L'ultimo intervento è di Massimo D'Alema, anche a lui lancio un passaggio di Ndejotti, se lo vuole raccogliere, seduta del 1 dicembre 1992, quindi sono 28 anni esattamente in questi giorni, si vota sulla commissione bicamerale che poi sarà presieduta prima da Cirica Codemita e poi dalla stessa Ndejotti. Parla di un sistema nuovo da mettere in piedi dopo che c'è stato il referendum del 1991 sulla precedenza unica e siamo nei mesi di mani pulite, siamo nei mesi della svalutazione della Dira. E' un altro passaggio molto drammatico e Massimo D'Alema era il capogruppo alla Camera in quella legislatura. Il sistema nuovo non dovrà alimentare frammentazioni o dispersioni ma non dovrà neppure disperdere differenze originalità né tradizioni politiche che devono certo rinnovarsi ma che sbagliato pensare possano perire o sfumare in un indistinto coacervo di nuovi soggetti politici. Certo le forze politiche che conosciamo non sono un dato che deve valere per l'eternità ma non possiamo neppure pensare che esse possano sparire da un giorno all'altro. Se ciò accadesse probabilmente si tratterebbe di una colossale operazione camaleontica di puro trasformismo in base alla quale ci troveremmo di fronte a quanto di più vecchio vi era nei precedenti partiti con un'etichetta nuova. Mi sembrano parole anche queste di una certa attualità. Non è facile aggiungere considerazioni. Io forse sul piano dell'analisi del ruolo politico svolto da Nilde Iotti potrò aggiungere qualcosa sul modo in cui Nilde fu anche a modo suo, oltretutto essendo Presidente della Camera, protagonista della vita politica e anche della battaglia politica all'interno del Partito Comunista e poi nella fase della sua trasformazione. Perché fu protagonista anche lì. Ma sicuramente gli interventi che si sono succeduti hanno messo in luce due aspetti fondamentali. Cioè il suo essere stata nel corso di tutta la sua esperienza politica, come diceva Livia Turco, una grande protagonista della lotta di emancipazione femminile, perché così, diciamo, essa stessa concepiva questa lotta, e cioè per l'eguaglianza, la piena eguaglianza di diritti tra donne e uomini. E avere concepito il suo ruolo anche come quello di una personalità che voleva aprire uno spazio nella vita politica delle istituzioni alle donne. Sempre con una grande attenzione alle donne, più accondiscendente verso le donne del popolo, più severa verso le donne che man mano si avvicinavano invece al potere. Dove lei riteneva che ci dovesse essere una selezione severa. Io ricordo come capogruppo, che è molto garbo, sempre chiese di vedermi perché le sembrava che certe promozioni fossero eccessive rispetto alle qualità e alle capacità delle persone. Fu grande protagonista. Dalla, diciamo, dalla sua battaglia per l'accesso delle donne alla magistratura, diciamo, alla Costituente, fino, via via, a tutte le grandi battaglie per i diritti delle donne e per il diritto di famiglia, e quindi per il ruolo delle donne nella famiglia. Sono state dette delle cose giustissime da questo punto di vista. È stata una donna coraggiosamente moderna, nel senso di un anticonformismo coraggioso, vissuto con sofferenza personale, di una grande personalità. Perché non c'è dubbio, diciamo, che il suo amore verso Togliatti la mise in una posizione, rispetto al perbenismo dell'epoca, che pervadeva anche il Partito Comunista, la mise in una posizione di una difficoltà estrema. Anche perché tutto il rancore che non poteva esplicitarsi nei confronti del capo si sfogava contro di lei. E lei visse questa condizione con una, qui parlo non da testimonianze raccolte, diciamo, con una signorilità, una regalità è stato detto, straordinaria. E concepì modernamente la famiglia come una unione di affetti, appunto, che la sua, a partire dalla sua strana famiglia, dove non c'era un marito, non c'era una moglie, non c'era una figlia. E quindi... Ma era molto unita, diciamo. E che, diciamo, è, come dire, una... Parliamo dell'Italia degli anni 50. E quindi parliamo di una personalità straordinaria, diciamo, per modernità, per anticonformismo, per capacità di affrontare, anche in termini di sofferenza personale, diciamo, la coerenza delle sue scelte di vita e di vivere l'intensità dei suoi affetti. E' stato detto molto su il suo ruolo nelle istituzioni. Qui è stata, da una parte, custode, incarnando quella vocazione del Partito Comunista ad essere la forza presidio delle istituzioni democratiche, ma anche con una visione riformista molto coraggiosa e anche, direi, in particolare negli ultimi anni della sua esperienza, dell'esperienza del PC, in evidente contrasto con le posizioni prevalenti nel partito. Lei fu riformista, protagonista diretta con la bicamerale, sostegno anche dell'ultima esperienza bicamerale di cui io mi feci carico, di cui fu protagonista. Lei parlò in aula a sostegno del disegno di riforma, ma anche con aspetti critici. In particolare lo considerava poco coraggioso in materia di riforma del bicameralismo, perché lei avrebbe preferito il modello tedesco di un Senato delle Regioni, e invece in quella proposta non c'era questo. C'era, come dire, un superamento del bicameralismo perfetto, ma sempre uno schema bicamerale. Quindi considerò quella riforma, diciamo, da sostenere, ma non senza qualche riserva, diciamo, nel senso che le sembrò, su un punto importante, non abbastanza coraggiosa. Però lei fu riformista, e io credo che lei abbia vissuto, potrei dire, non credo, che sono testimone con particolare difficoltà, insomma, il periodo conclusivo della esperienza di Berlinguer. Lei sostenne Berlinguer con molta forza nella politica della solidarietà nazionale, che in qualche modo lei vedeva, come altri, come il compimento della strategia togliattiana. Ma quando lei si trovò ad essere Presidente della Camera, con una scelta, qui davvero, sono d'accordo con Casini, molto intelligente della DC, perché la Presidenza della Camera di Pietro Ingrao in qualche modo fu un atto dovuto. C'erano due vincitori. Nel 76 il governo si reggeva sulla stensione del Partito Comunista, quindi è evidente che non si poteva che avere un Presidente della Camera comunista. Ma dopo la fine della politica della solidarietà nazionale, e quando i comunisti tornavano all'opposizione, in un clima di acceso scontro politico, continuare a riconoscere all'opposizione comunista la Presidenza della Camera fu una scelta intelligente, una scelta intelligente non dovuta, che aiutò a mantenere, sia pure nell'asperità, che in un momento fu aspro, in particolare quello della Presidenza Craxi, un equilibrio democratico nel Paese. Ed è vero, lei interpretò la Presidenza esattamente nel senso che qui è stato ricostruito come garante del diritto, dovere di fare del Parlamento il luogo del confronto politico, quindi dei diritti dell'opposizione, ma non fino al punto di sopprimere il diritto della maggioranza a decidere. Quello fu il limite invalicabile. E per noi che eravamo l'opposizione qualche volta questo fu vissuto con sofferenza dall'opposizione, diciamo, perché c'era la compagna Iotti che presiedeva e che si rivolgeva a noi semmai con accentuata severità, soprattutto se qualcuno era scomposto nel fare l'opposizione, diciamo, cosa che non veniva considerata tollerabile. come la mancanza delle cravate o tutte cose che appartengono al tempo della decadenza che poi abbiamo vissuto, ma che in quell'epoca erano considerate non accettabili, non per formalismo, ma per il decoro delle istituzioni. E quindi, e sono in modo molto approfondito, poi acuto, Anna Finocchiaro ha ricostruito proprio come questa sua visione si tradusse anche in una interpretazione regolamentare che ha costituito un contributo veramente molto importante al funzionamento del Parlamento. Però, lei visse con difficoltà all'ultimo Berlinguer. Sia le... Naturalmente è uno dei momenti più complessi della storia della sinistra italiana ed è sicuramente il conflitto tra comunisti e socialisti e poi il modo in cui Berlinguer interpretò la crisi della democrazia. Per alcuni aspetti, a mio giudizio, con una grande lungimiranza, cogliendo, diciamo, questi... Per altri aspetti, però sicuramente allontanandosi dalla tradizione togliattiana, dalla... Quella idea della democrazia dei partiti che aveva costituito il terreno culturale, la cultura dei comunisti italiani. E... Io ricordo benissimo, Nilde non fu d'accordo sul... Non solo lei, naturalmente, ci fu un momento profondo di rottura. Non apprezzava il decisionismo craxiano laddove questo portava ad una forzatura delle regole, ad una prevaricazione, ma sono convinto che il riformismo di Craxi avesse per lei una sua ragion d'essere. Non condivideva la forzatura nella polemica contro il partito socialista di Craxi, non condivise la scelta di fare il referendum sulla scala mobile, che portò ad una discussione molto difficile. Non fu solo lei, naturalmente, che non condivideva questa scelta, molti altri, Chiaromonte, Napolitano, alla fine di una difficilissima discussione, Chiaromonte che certamente non era d'accordo fu incaricato di annunciare il referendum nella dichiarazione di voto al Senato. Ma questa era la regola. Lo dico perché io che naturalmente avevamo un grande rispetto e venerazione verso di lei, io ero dall'altra parte in quelle battaglie. Facevo parte di quella nuova leva che si sentiva più vicina alle posizioni di Berlinguer, che condivideva anche, come dire, la durezza della sua battaglia, che apprezzava le aperture di Berlinguer verso nuove culture, l'ambientalismo, il femminismo, che naturalmente apparivano però rispetto, come dire, alla tradizione del comunismo italiano, come degli strappi. Ora, parliamoci chiaro, quando io dico Nilde Jotti parlo sempre di una persona che si doveva con un senso della misura anche per il suo ruolo istituzionale ma anche proprio il tratto della sua personalità. Però con fermezza nelle sue opinioni. Cioè non aveva, non condivise la scelta che dopo la morte di Berlinguer che fosse nata, aveva un grande rispetto verso nata, ma lei avrebbe voluto Luciano Lama segretario del partito come altri perché pensava che questa soluzione avrebbe consentito di riaprire un dialogo a sinistra e una collaborazione con il partito socialista. Ripeto, non fu mai rissosa ma non cedeva di un millimetro rispetto alle sue opinioni anche quando erano opinioni di minoranza diciamo perché in questi casi rimase in minoranza ma lo dico questo per delineare un profilo di Nilde Jotti cioè oltre ad essere stata protagonista delle lotte delle donne e protagonista della vita delle istituzioni fu donna che partecipò con intensità alla vita politica di un gruppo dirigente politico e lo fece con una posizione molto delineata sia pure diciamo interpretata sempre con quella cautela quella riservatezza che erano legati al suo ruolo e anche alla sua personalità così come Nilde fu certamente favorevole al cambiamento lo fu in modo non formale favorevole al cambiamento favorevole al cambiamento del nome del simbolo la necessità di ricollocare la sinistra italiana nel quadro della sinistra riformista europea sostenne con convinzione autentica con la preoccupazione che si esprimeva in quel discorso che tu hai ricordato che però in questo cambiamento non si smarrissero le culture politiche non la forma e il nome dei partiti ma la forza e il radicamento delle culture politiche che avevano caratterizzato la storia della democrazia italiana e quindi in questo senso lei fu innovatrice ma non fu mai nuovista da nessun punto di vista diciamo il nuovismo cioè la moda del nuovo per il nuovo non l'affascinava e questo aveva come dire uno stile un grande epistemologo che le rivoluzioni scientifiche hanno una struttura conservatrice cioè come dire è la forza della tradizione in lei c'era la forza della tradizione e c'era una visione riformatrice ma non nuovista così come sicuramente ebbe una concezione popolare della politica ma senza nessun cedimento plebeista nel senso che la politica popolare era una politica che non doveva abbassarsi ad essere populista ma doveva contribuire ad elevare il popolo cioè aveva una visione pedagogica secondo un impianto diciamo a mio giudizio saldamente democratico e aveva anche Nilde l'ultima cosa che voglio dire un tratto umano io ho avuto modo di avere tanti momenti di rapporto con lei per ragioni diverse ovviamente del nostro lavoro non un'amicizia personale ma poi per una ragione anche particolare ho avuto modo di frequentarla negli ultimi momenti nelle ultime settimane della sua vita perché lei era ricoverata a Poli in una clinica della famiglia Spallone io ero presidente del consiglio e in quella stessa clinica era ricoverata una mia zia una mia vecchia zia che è stata sola a cui ero molto legato e quindi io quando finivo di lavorare ma spesso due o tre volte alla settimana andavo su a Poli andavo a trovare mia zia andavo a trovare Mitegliotti e ho avuto con lei delle conversazioni a parte una cosa che ricordo che è straordinaria perché lei mi riceveva era una donna in fin di vita ma io dovevo aspettare perché lei si truccava metteva un foulard era una regina e vorrei aggiungere una cosa è una donna che non ha mai abbandonato la sua femminilità una donna di grande femminilità con un suo fascino femminile che ha sempre coltivato a cui non ha mai rinunciato neppure degli ultimi momenti della sua vita quindi uno veniva ricevuto da questa signora e abbiamo molto modo di parlare di tanti momenti diciamo una volta le chiesi le cose le chiesi ma le chiesi di quel momento drammatico della vita di Togliatti quando Togliatti fu richiesto da Stalin di abbandonare il partito comunista italiano e di andare a fare segretario del Cominform che non era una proposta molto amichevole in realtà e Togliatti che era in vacanza nell'Unione Sovietica insieme a Nildeiotti disse bisogna interrogare il partito comunista italiano il partito comunista italiano disse sì e salvo Terracini che si oppose e Togliatti sicuramente non fu contento tornò in Italia dopodiché tornò a Mosca solo per i funerali di Stalin diciamo quindi lasciò cadere nei fatti la proposta senza che nessuno usasse ricordargli e io gli disse Nilde ma si sfogò si sentì tradito e lei mi disse era certamente amareggiato ma non disse più nulla a nessuno neanche a me e poi era fatto così questo fa capire diciamo che che generazione è stata quella quali prove ha vissuto come siamo stati fortunati noi che li abbiamo conosciuti diciamo e spero che quelli che non hanno avuto questa fortuna però insomma cerchino di raccogliere le testimonianze scritte che sono molte grazie